E gli assenti hanno sempre torto, la regola vuole così, tranne nel caso dell'assemblea pubblica sul Policlinico, meglio sulla sanità nissena. Una passerella per una compagine politica così è stata definita, quando invece se avessero partecipato tutti sarebbe stato un confronto sui temi e sui contenuti, ad averceli. Imbarazzante il silenzio dell'azienda ospedaliera, del vertice dell'azienda più volte chiamato a rispondere alle richieste dei cittadini, come se fosse un'entità a sé. Non al servizio dell'utenza sanitaria, come se fosse una terra di conquista che diventa una proprietà privata ed elettorale. Il paziente messo al centro resta un'utopia scritta sulla carta dei testi di organizzazione sanitaria. Questa è la triste realtà che è emersa dall'assemblea, in cui è chiaro che il Policlinico non si farà né a Caltanissetta né a Enna, ma il problema sollevato dovrebbe servire a migliorare i servizi e attirare l'attenzione su un mondo, quello della sanità, del quale tutti hanno sempre parlato in sordina e nessuno ha mai puntato i riflettori. Bacino elettorale, scrigno di posti di potere, quello che tutti sanno e fino ad oggi nessuno ha avuto il coraggio di dire. Molte di queste informazioni sono contenute nel documento che i due organizzatori dell'assemblea, Sergio Cirlinci e Rita Capraro, hanno stilato in cinque punti e hanno consegnato al presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Magri, come indirizzo per un atto di indirizzo, che domani pomeriggio dovrà essere discusso e votato in Consiglio Comunale. I critici hanno parlato di liasonne tra l'amministrazione e la direzione generale dell'ASP, quando in pandemia sono stati notevoli gli scontri nel chiuso delle stanze per accelerare certi servizi come lo SPEMP e i tamponi. Quella per la sanità più efficiente è una battaglia che si dovrebbe combattere tutti assieme, perché tutti e ciascuno, tranne a fare i viaggi della speranza nei grandi centri ospedalieri, hanno necessità di un servizio efficiente sul territorio. La piazza di scontro dovrebbe essere spostata su altri tremi e non sulla salute.